109 anni e non sentirli, Noci festeggia Nonna Nina, la longeva figlia della città, insieme alla sua famiglia e residenti del quartiere dove l'anziana vive. Ai festeggiamenti ha partecipato anche la consigliera regionale Lucia Parchitelli, che ha portato i suoi auguri alla nonna di Puglia, in una festa che è stata organizzata in grande, insieme alla banda cittadina. Presente anche una delegazione della Croce Rossa, Sezione Noci, e ancora una delegazione dell'Associazione Bip Bari. E' una degli Ultras Bari di Noci. E poi l'ex sindaca Giulia Basile, il coordinatore dell'Associazione Rigenera, Anastasio Mottola, con cui Nonna Nina ha iniziato a collaborare per sostenere diverse associazioni di volontariato, tra cui Apleti e la stessa Vip Bari. Tantissimi nocesi accorsi a festeggiare la nonnina più longeva di Noci e della Puglia.